SIGLA Ferrari! 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 Sono il padre, facciamo un comunicato dal WEC Saregiamo un attimo sulla posizione con nota E confermata, giusto per l'ingresso vicino agli altri Per evitare appunto che poi ci mischiamo Diciamo, abbiamo finito l'allenzimento pad Dov'è che devo mettere i mezzi dopo? Perché immagino come al solito nel pad WEC Non ti fanno cascare con uno spiglio Yeah, just want to confirm your commitment for next week Yeah, for Monza Exactly, yeah, your arrival on Thursday You have your first commitment in the afternoon So, ready to go We have some media activities And then prize giving in the evening All good, see you there then Bye bye, ciao, thanks, ciao, ciao Allora ragazzi, per le casse dei piloti Come ci siamo detti, li scarichiamo qui davanti E li colpiamo solo spogli Ok, comunque mi piace Miuta se Miuta se No Sì, sì, sì. Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Buon lavoro! Being in Monza per me come italianosamente è un sentimento speciale perché è il nostro rinforo. La atmosfera che abbiamo qui è molto bella. Siamo davvero sentiti quello che significa Ferrari per l'Italia. Abbiamo spettato molto forti per arrivare a un risultato molto forte e questo è il nostro principale focus per questo weekend. Nic! Questo è il suo canale? Il nostro canale. Il tuo canale? Il nostro canale! Il nostro canale! Il nostro canale! Al assimilante di e in termini di raccomandazioni, la pressione simile a quello che abbiamo usato nel testo, molto simili alcuni 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 di 500 gradi, semplice alcuni alcuni alcuni. C'è il track walk, non lo sapevi? Io un po' irregolare. Si mettono così. Fino a un anno fa questa macchina, questo team non c'era e quindi abbiamo portato la macchina alle mani, abbiamo vinto le mani e quindi arriviamo a Monza con una bella motivazione. Sicuramente è una soddisfazione personale ma una soddisfazione di tutti, una grande vittoria di squadra perché credo che essere riusciti a vincere la 24 ore di Le Mans al primo colpo, come si dice, non c'era mai riuscito nessuno in 100 anni. Grazie! 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 Buongiorno a tutti, benvenuti al Autodromo Nazir Ali di Monza. Cosa è stato fatto per essere un winner di Le Mans per la Ferrari? È qualcosa di meraviglioso, qualcosa che non possiamo credere. Credo che è stato l'inizio, il primo bambino della nostra macchina. Quindi, alla fine, abbiamo avuto qualcosa di molto impressionante per noi. Vediamo, spero che il tifosi ci dà un altro boost che abbiamo bisogno. Siamo cercando di modificare i processi e le strutture delle tifiche in order di essere compliante con le standard. Il nuovo porto è il nuovo porto dell'IF Corso, dove il 499-P è il nostro porto è il nostro porto. E anche il nostro porto è il nostro porto di Malanello, che è il nostro porto è il nostro porto. E ha anche le certifiche in termini di sostenibilità. Nel nostro porto è anche il nostro porto, perché il nostro singolo di MekSER, il nostro porto è stato fatto, che hanno ricevuto la certificazione prima di noi, due anni fa. Quindi, è una parte che stiamo seguendo in termini di un porto general. Quindi, in realtà, siamo in modo da fare la scuola e stiamo in modo da fare la scuola. Allora, il nostro porto è a casa! Non ci sono le banane, quindi quando andiamo a la curva, non ci sono le banane, Non si può riuscire quando si può riuscire. Perché siamo in testo, sempre andiamo sulla curva e ora abbiamo il limitato di trattamento. Più per l'ascara si può riuscire sull'interno senza riuscire. Arrivederci, attacca. Questo è il testo. Ora stiamo parlando. Ora facciamo questo. Sponding era facile perché stavo fuori dal fondo molto più vicino a loro e poi si trattano gli uomini. E poi si fanno fuori dal fondo. Can I have a track temperature, please? 34, 46. We need to be ready, driver in the car. Ok, let's go, let's go. Hypercar qualifying has started. Second push, can brake later in turn one. Keep pushing, keep pushing. Keep going, we got a lap deleted, we got a lap deleted. Push next lap, push next lap. Right now we are P6. We know we have a fast car. Joby did a great job. You guys did a great job. That's P2. Thousands off. But thanks for the job. You can't see it. 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 It's completely slow down. Slow down, block, block to the... And then, in parabolically accelerate. We lost 310. It's impeding. It was the best lap. I know. Yeah. Let's pick up Joe! Joby, Joby, Joby! Viva! 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 Ha fatto un'altra cappella con la... La 8? Sì. Sì. Let's look ahead now. Here we are behind. The Toyota number seven. Maximum attack. That was properly brave driving. The way her head's in. C'è entro che ci stiamo in fronte, ma c'è 4 nuovi, o che cambiamo 2 stagioni e sono in fronte. Perciò per cambiare 2, sono già un po' stagione. Capito, cambiamo, box, box, box. Questo sarà vicino! Molto vicino! Plattato da l'outilab, per favore. Iniziamo, 7.6. Ok, con la sua carica dietro, se si si trova, perciò perciò perciò. Perciò perciò a fare un po' di più, ma che si trova. Perciò perciò a quella 5. Grazie a tutti, guardate, 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 qualcosa può succedere. Finale lapso, final lapso. Checker flat is out, that's P2 made for today. Even a pacer, I think that's the best possibilizer we could achieve. Anyway, good race. That was a really good effort. They had way faster cars thanks to the new BOP. We did our best to make up for some bad luck. We came in P5. Definitely. Obviously, the P5 has done everything possible. P5 has done everything possible. The P5 has done everything possible. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.